Musica Musica Ma dove stiamo? Siamo arrivati Finalmente siamo arrivati a Los Angeles dopo 17, no 17 no, 12 ore Sembravano come 17 ore 12 ore di volo ragazzi siamo arrivati a Los Angeles, abbiamo fatto Barcelona a Los Angeles Sia io che Sammy praticamente non avevamo, abbiamo preso il biglietto più economico del mondo Quindi non c'erano niente da mangiare sul volo Quindi abbiamo fatto probabilmente due panini a testa, però l'ho mangiato di merda Una cosa come 20 euro a testa con due panini E siamo a Los Angeles Adesso dobbiamo andare all'Airbnb che sta a Venice Beach Quindi abbiamo preso il posto proprio sulla spiaggia di Los Angeles, quindi non downtown Abbiamo preso un Uber, dovrebbero essere un 20-30 minuti Sì, una ventina di minuti Sì, e poi non so ancora bene che cosa facciamo, se mangiamo, perché dobbiamo mangiare qualcosa Comunque per noi il nostro orario da adesso sono le 3 o 4 del mattino 4 di mattino, sì 4 di mattino, quindi siamo un pochino genlocked, un pochino squalculato Rincoglioniti E niente, prendiamo sto Uber e andiamo a vedere com'è questo Airbnb Let's go Semi è un genio, tipo ha trovato ste chiave Che abbiamo fatto nel Lockman Sì, un casino qua Oh, ciao oggi Bella le gambe, benvenuti al tour della casa Oh yeah Los Angeles Airbnb ragazzi Questo secondo me, stavo dicendo a Sammy Se sei un attore, ti pigli una casa così Non è niente di che Però, ripetimi un attimo i prezzi Questa casa, per l'idea, 2.100 euro al mese 2.100 ragazzi Quindi voi dite, è stata a risparmiare Cioè, tenete in conto che era 2.100 al mese Allora, abbiamo il primo bagno che è un bagno, non lo so, decente Sì, vabbè, è un bagnetto Un bagnetto Un bagnetto Un bellissimo specchio Non so, guys Poi ci abbiamo, praticamente, un salottino Con il sofà Un tavolo E poi abbiamo anche un cucinino Diciamo che comunque è multifunzione Qua possiamo postare le cose Siamo a cucinare Volevo essere sicuro di prendere una cucina In cui potevo cucinare Ho preso un Airbnb anche per quello Perché se volete stare a dieta Anche quando viaggiate Se state in hotel è molto più difficile Perché dovete fare il buffet di pasti così Invece qua ho detto Mi serve la cucina Per poter almeno cucinare un po' di carne Un po' di volta del genere Quindi questa è la cucina Poi siamo direttamente su una Su una strada E come abbiamo messo con Sam Queste finestre Sì, non sono proprio le più Solite Però Diciamo che se qualcuno vuole entrare È abbastanza facile Qualcuno entra Vi faccio vedere la stanza principale Venite Questa invece è la stanza principale In cui stavamo io e Sam Perché sì Abbiamo dovuto prendere una stanza Perché se no non ce la facciamo Col budget Abbiamo un altro armadietto Abbiamo un bel terrazzino Con una vista fuori Un mare Poi se continuiamo invece il giro qua C'abbiamo il letto decente Delle solite ti mostro un pochino strane Però almeno sono grandi E abbiamo una vista Proprio sulla strada principale di Venice Che è inimmaginabile Piccola televisione Poi ci abbiamo il master Master bedroom Master bagno Master bagno Yes Carino Quindi questo sarà il nostro alloggio Per i prossimi Non ve lo dico quanti giorni E non lo so Adesso abbiamo fame Dobbiamo mangiare Sì andiamo Usciamo Cerchiamo qualcosa Quindi usciamo E troviamo un posto a mangiare Semmi Oppure ordiniamo qualcosa Sul libero Che qua subito ci ha detto L'Uber driver Ma è stata a casa E vi ho ordinato E l'oltre in casa Però vediamo Se riusciamo a combinare Un po' di healthy E un po' di non healthy Io vorrei il healthy E Semmi vuole Un bel burger Io invece A dato che abbiamo mangiato Malissimo sull'aereo Mi sono pure mangiato Tipo mezza tavoletta Di cioccolato Vorrei stare un po' più attento Almeno mangiare delle proteine Vediamo che troviamo Dai Allora ragazzi Alla fine abbiamo fatto Abbiamo un po' visto in giro Che cosa c'era C'era ben poco A quest'ora Qua intorno Potevamo arrivare fino A Venice Beach Oppure facevamo Uber Eats Abbiamo fatto Uber Eats Che praticamente Ti portano a casa il cibo Quindi ti puoi libero Mi sono preso una Coca Cola Zero Semmi si è preso Una Coca Cola normale Un po' più di calorie Come sapete Poi vediamo Qualche ci abbiamo E' caldissimo E' molto Molto buono Vediamo qual'è Di chi Quindi il ritorno è buono Questo è il mega burger Di Sammy Se volete vedere Posso mostrare Non si vede tanto E io invece Ho preso Una cosa un po' più Healthy Però comunque Consistente Avevo Veramente voglia di burrito E quindi ho preso Oddio Stavo per dire Un healthy burrito Un healthy burrito Un healthy burrito Oh mio Dio Anzi hai preso una cosa più discussosa della mia Che vi devo dire ragazzi Mi devo ricordare che stai in America No ma sai cosa? Sai che cosa? Ho pure chiesto Se potevano mettere poca salsa E metterci dentro Dell'insalata E guardate che hanno fatto La salsa sta uscendo Dal burrito Grande E spesa pure mezzo kilo Vabbè raga Questa deve essere tipo la thumbnail Epic fail in America Un cibo Un cibo Same in America Porco due Stavo tipo per dirvi Raga guardate la dieta Volevo fare tutto un discorso A volte raga Questa è la verità Vuoi mangiare il burger? Sto putto Almeno speriamo sia buono Dai Vabbè ragazzi Allora abbiamo fatto una scoperta In realtà è solo il fuori Che è veramente pieno di roba Perché poi Dentro Non so se riuscite a vedere Vedete ha messo l'insalata Riso C'è un sacco di carne diversa Ho chiesto steak E chicken Poverò Vabbè assaggia un po' va No per essere buono Buono? Proverò a mangiare il dentro E fuori Si minimizza La mattina seguente Ci siamo alzate le 5 e mezza Adesso sono le 6 e mezza Il sole sta uscendo E stiamo andando a comprare qualcosa Perché dopo ieri sera Come avete visto Epic epic fail Qui non abbiamo mangiato niente Stiamo andando Verso questo negozio Che si chiama Ralph's Che dovrebbe essere enorme Tipo un whole food Per andarci Sono 20 minuti a piedi Oppure in LA Ci sono queste cose Che vi faccio vedere adesso Questi mini scooterini elettrici E Sammy Guardate qua Bella raga Voglio farmi vedere come funziona Ovviamente parti Bella E quindi si Adesso andiamo a trovarne Un altro per me E andiamo verso Ralph E faremo una bella spesa Un po' fit Perché ho veramente bisogno Di mangiare bene ragazzi Mi sono svegliato stamattina Con una pesantezza Allucinante E non è bello Quindi Vado a fare Vado a comprare Magari un po' di frutta Un po' di verdura Qualcosa di proteico Protein shake Vedo che cosa c'è Facciamo un po' una spesina Ci vediamo là Ragazzi siamo appena fuori Ralph Dobbiamo pulire la telecamera Sammy Da Ralph's Non sono mai venuto Però ho visto delle foto Sembra enorme Tipo whole foods Proverò a farvi vedere La spesa che mi compro Compro soprattutto Frutta e verdura Come ho detto E qualche fonte di proteine Abbastanza magra Perché già so che Durante il resto della giornata Se siamo fuori Mangeremo American Diner Mangeremo burrito Come ieri sera Che avete visto Quindi è abbastanza grasso Quindi io provo Almeno a fare la spesa Così che a casa Posso mangiare E seguire una dieta Poi vi parlerò meglio Di tutta la dieta Che sto seguendo La fase di massa E tutto ciò Ma adesso Andiamo a fare la spesa Siamo praticamente appena tornati E sono le 8 e 10 E praticamente abbiamo questo sole Che entra nella casa Che è molto più carina La casa sembra molto più bella Devo dire che si Anche io le piante Tutto vi faccio vedere Cosa ho preso molto rapidamente Allora Come frutta Ho preso banane e mele Che sono le cose Meno costose E che a me piace di più Mangiare la mela e le banane Sono due dei miei frutti preferiti Poi ho preso Per un pochino di proteine E altro Ho preso 4 di questi Original Greek Vanilla Python Fit Greek Yogurt Che hanno 80 calorie E 12 grammi di proteine Per pot E l'ho visto un sacco Negli youtuber americani Questo è il gusto vanilla E questo è Vanilla e cocco Poi Aspettando che mi arrivano Le farrette di My Protein Mi dovrebbe arrivare un pacco Ho preso 3 di queste barrette Nel frattempo Che hanno 20 grammi Di proteine Ciascuna Poi ho preso un po' di Tacchino E mi farò del pane Che ho preso Sammy Mi farò un pochino di pane Che ho il tacchino Se mi serve Un po' più di proteine E carboidrati Poi ho deciso di prendermi Come sapete Dieta flessibile Quindi questi sono i Rice Krispie Treats Sono una bomba Sai me li hai mai provati? No non credo Questo è un praticamente Rice Krispie con dei marshmallow Quindi è tipo solo carne E' un po' più di proteine Però sono veramente Veramente una bomba Ne do uno dopo E poi semplicemente Dell'acqua Mi faccio un tè Mi faccio una piccola colazione Mi metto a lavorare Ci sentiamo dopo E ragazzi vi faccio vedere Il primo pasto americano La prima colazione A Los Angeles Ecco qui Ci abbiamo il nostro Piccolo bowl Sono o non sono un Instagram Guardate qua Ci ho messo due di quegli yogurt La banana tagliata Il Rice Krispie E la protein bar C'è una mela E mi sgolo tutta questa bottiglia Di acqua E quindi questa Sarà la prima colazione americana Sì che ne pensi? Stavi dicendo che ne penso Assurdo E' assurdo Sì che sto dicendo che Io sono un big fan Di tanti youtubers Qua in America E boh Tanti prankster Gente che fa scherzi E vengono sempre qua A Venice Beach Letteralmente qua E quindi assurdo Dopo anni Di vedere La gente che viene qua A fare questi scherzi Che adesso ci sto io E' veramente Surreale La prima volta per Sammy E questa è la seconda volta per me Ragazzi allora Siamo fuori LA Fitness Finalmente siamo arrivati Alla parte Dell'allenamento Grazie a tutti Quelli che stanno ancora guardando Se vi sta piacendo Questo tipo di vlog Più lungo Formato un po' americano Che a me sempre Mi piace un sacco fare Avevamo in mente Di fare questi documentari Lasciateci un bel like E veramente Quei prossimi video Vi stupiranno Diciamo solo questo Comunque Siamo appena fuori LA Fitness Ci hanno detto Non possiamo filmare dentro Però io voglio Provare a portarvi un po' Di contenuto Oggi Iniziamo il mio nuovo programma Di allenamento Ve ne parlerò meglio Nei prossimi video Sto anche scrivendo una guida Per chi mi segue su Instagram Sa esattamente di quello Che sto parlando E incorporo questo programma All'interno Della guida Facciamo bicipiti E schiena E faremo anche un pochino Di deltoide posteriore Ci sono delle macchine fighe Come detto Non possiamo filmare Quindi stiamo un pochino attenti E vediamo Come fa E ragazzi Abbiamo appena finito Quell'allenamento Abbiamo fatto Parte di questo Mio nuovo programma Che come detto fuori Sarà anche incluso Nella guida Però la guida È molto più Di un semplice programma Ci saranno dei template Di allenamento Su base scientifica Il programma esatto Che seguo io In America Ma anche veramente Un sacco di altre cose Soprattutto Come poter Programmare Il vostro allenamento Tutti i fattori Scientifici Quindi Frequenza Intensità Volume Come scegliere Il volume Per sessione Per gruppo muscolare Volume totale Per gruppo muscolare Nella settimana Intensità Che dovete usare Tutto questo Troverete nella guida Che uscirà fra pochissimo Quindi abbiamo fatto Un movimento Di tirata Row Orizzontale Poi abbiamo fatto Una tirata verticale Quindi abbiamo fatto Entrambi i piani Per la schiena Poi abbiamo fatto Un movimento pesante Che era Quello SLDL Una variazione Dello stacco Abbiamo fatto Tre serie Da 4-6 ripetizioni E poi siamo passati A fare Due movimenti Di bicipiti Primo Easy Barbell curl Quindi bilanciere Z Abbiamo fatto Un curl E il secondo Abbiamo fatto Invece Almeno io Ho fatto Un curl Con i manubri E poi Per finire tutto Abbiamo fatto I flies Del toy Posteriore E poi abbiamo fatto Weighted crunch Ai cavi Per gli addominali Che non abbiamo filmato Questo è stato Tutto l'allenamento Purtroppo io volevo Filmare tutto bene Con la telecamera Fatta bene Con Sammy Ma qua ci hanno detto Che non possiamo filmare Ci hanno proprio detto No 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 Quindi abbiamo dovuto Fare rapidamente Con il telefono E questo è tutto Pasta post workout Mi sto facendo Questo Lenny & Lowry's Cookies Che ha 8 grammi di proteine E un muscle milk Che invece dovrebbe avere 25 grammi di proteine Quindi questo insieme Mi permette di ottimizzare La mia sintesi proteica Post allenamento Sammy è tipo Wow Sto far un sacco E quindi questo è Pasta post workout Allora Spero che vi sia piaciuto Questo primo video Fateci sapere Se vi è piaciuto Lo stile Un po' più documentario Quindi Che è durato 15 Beh documentario È durato tipo 15-20 minuti Quindi fateci sapere Se vi è piaciuto così Noi pensavamo Di continuare A farli Un pochino più lunghi Solamente per potervi dare Un'idea più globale Diciamo Della nostra vita In America Giusto Ah lo voglio Ragazzi Non vi scordate Segite il Giulietto Su Instagram Puoi girarla se vuoi Sammy quando parli No vabbè No Non te va No Appaio nei prossimi video No ragazzi Seguite il Giulietto Giulio Ramazzo Su Instagram Seguite me Sammy underscore Forester Su Instagram Mettiamo i nomi qua Se volete il backstage Quindi tutto quello che facciamo Anche oltre il fitness C'è Sammy Invece Ditemi nei commenti Se vi è piaciuto Questo stile documentario Lasciateci un like E diteci I prossimi argomenti Questa Voglio fare una serie Di bulking Quindi tutto quello che è Dieta Calorie Alleamento Tutto Nei prossimi video Vi giuro Spaccheranno Ma gli diciamo La sorpresa Ancora no Guardate i prossimi video Per riflessare Mi raccomando Ci sta un'altra sorpresa Ci stiamo una bella sorpresa Oh yeah baby Comunque Vi ringrazio veramente Un sacco Apprezziamo un sacco Il vostro supporto Come sempre E Ci sbaccheremo in due In c***o Per portare C***o Ho detto Ora sapete che stiamo Un c***o Non saremo E ci vediamo Nel prossimo video Ciao ragazzi Grazie mille